Carmina Bagnale, la mamma ha sempre condiviso i vostri sacrifici, che sono stati sacrifici importanti, che però hanno dato risultati davvero importanti? Sì, ci ha sempre sostenuto e comunque anche i genitori fanno tanti servizi per mandare i ragazzi a fare sport. Noi li facevamo da atleti ma loro da genitori, quindi anche grazie a loro siamo riusciti a fare quello che abbiamo fatto. Avete dedicato tante vittorie ai vostri genitori, oggi c'è chi dedica qualcosa a tua mamma per i sacrifici che ha fatto in questi anni? Sì, indubbiamente anche loro devono festeggiare quei grandi successi ottenuti. È una cosa rara che mia mamma si muove da casa perché è sempre stata una persona riservata, non ha mai voluto apparire in pubblico. Questo è un po' uno scopo essere qui questa mattina.